Grazie a tutti. Quindi, esterno, collo, interno, tacco. Esterno, collo, interno, tacco. Esterno, collo, interno, tacco. E' sempre una sorta di movimento. Interno, esterno, uno, due, tre. Interno, esterno, tutto con un piede, un giro. Ti sposti, uno, due, uno, due, tre. Ti sposti. C'è una borsa che allarga il gioco. Grazie. Tu prima di ricevere la palla, sempre cosa devi guardare? Guarda dove è la pressione. Quindi muovi il collo, tu muovi il collo, tu ricevi la palla. Controllo orientato in avanti, diventare appuntabile, c'hai spazio. Andiamo a lavorare sul CR7. Adesso ho un'azione di decentramento. Quindi tutta la zona laterale ti accetta. E' un piatto. Questa è una per sacra. Con la fita di CR7. E' un'azione di decentramento. Questa è una per sacra. Il collo è quello di fare il gol, è la porta, con un crossfitter, non piede a fondo. Ma la palla, l'obiettivo non deve rimbalzare qui, deve rimbalzare dentro la porta. Quindi, tutti avversari, ok? E' un'azione di decentramento. Andiamo a fare il collo, è iniziarlo. E' un attimo. 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 2. E' un attimo. 5 e 4. Allora, vieni. Così? Perché state scattate qui, ancora che succede qua, eh? 3, via, gliela dai. 1, togli il destro. Via, 2, 2, 3, 2. 3, via, gliela dai. 3, via, gliela dai.